Qui a Caldarola siamo con il tecnico delle sanatoie Carzetti, ovviamente è difficile venirse a giocare contro la prima squadra del girone, un primo tempo però decisamente migliore, invece poi nella ripresa, soprattutto sul finale, le cose sono andate peggiorando. Sì, non ho nulla da riproverare ai miei ragazzi, abbiamo fatto un'ora di buon caldo, abbiamo ottenuto testa a una squadra ottima, Caldarola stiamo sull'1-1, dopo con il 2-1 di loro ci siamo un po' disuniti e gli ultimi 3-4 minuti poteva essere stato un piccolo dragollo, però la squadra mia ha retto bene l'incontro, ha cercato di giocare e un'ora al merito a Caldarola si è dimostrato una squadra nettamente superiore a tutto il resto del campionato. Con Capitan Nerviti una vittoria molto importante quella del Caldarola, molto ampia, abbiamo parlato prima con il tecnico Carzetti, primo tempo decisamente più equilibrato, poi nel secondo tempo voi avete ingranato la quarta e alla fine l'attacco, la qualità dell'attacco del Caldarola si è fatta vedere tutto. Sì, è importante perché oggi potevamo guadagnare altri due punti su Rione Pace, è importante anche per le condizioni in cui eravamo oggi, con molte assenze, oggi siamo stati strepitosi, qualcuno si è sacrificato il ruolo che non era suo e va bene, ora ci andiamo a giocare mercoledì la Coppa che è un altro obiettivo a cui teniamo molto e niente, alle prossime.